Il sorriso di Chiaro Monte 77 gli scatti arrivati e 10 di questi sono stati selezionati da un'apposita giuria e sono diventati cartoline, con stampato naturalmente il nome dell'autore o dell'autrice. Gli scatti scelti sono stati quelli di Iris Carmen Eramo, Valentino Vitale, Giuseppe Sassano e Gianluca Pozzo Vivo. Mille le cartoline stampate, un centinaio per ogni foto, che l'associazione distribuirà anche nelle attività commerciali di Chiaro Monte. Un modo particolare per celebrare il paese, riprendendo un'abitudine forse un po' trascurata nell'epoca di internet, avere tra le mani una bella cartolina che ci ricordi un luogo particolare e attraverso la quale riusciamo a mandare ai nostri cari un messaggio di affetto. Contestualmente al concorso, il sorriso ha organizzato i mercatini di Natale, tutto all'interno delle ex scuole elementari, e il tutto allietato dalla musica delle zampogne dell'associazione Totarelle di Terranova di Pollino. Simon I Grazie a tutti.